Si amplia l'offerta dei corsi di laurea in lingua inglese erogati dall'Università di Camerino grazie alle importanti novità per il corso di laurea triennale in scienze geologiche, ambientali e naturali. Dal prossimo anno accademico, infatti, le attività didattiche e formative del corso saranno interamente erogate in lingua inglese. L'obiettivo è quello di dare agli studenti un respiro più internazionale, far sì che le competenze acquisite possano essere spendibili non solo sul mercato italiano ma anche su quello estero. Il corso di laurea continuerà a prevedere due indirizzi, uno in geologia e l'altro in scienze naturali ed ambientali. Si completa così il percorso formativo internazionale nel campo della geologia che prevede già da diversi anni la laurea magistrale in lingua inglese, così come il corso di dottorato di ricerca. L'obiettivo è quello di aiutare gli studenti ad inserirsi attivamente nei numerosi progetti scientifici a carattere internazionale della sezione di geologia e a trovare opportunità lavorative nelle nuove realtà europee che si stanno delineando, come ad esempio la macro-regione adriatico-ionica. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito geologia.unicam.it